ha la possibilità di laurearsi per la nona volta campione d'italia per cui questa è la partita questi sono gli highlights termine di oggi che non si usava allora gli highlights tricolori per eccellenza del campionato rossonero il nono scudetto arriva qui con il gol di gianni rivera sul secondo palo è il gol del campionato è il gol dello scudetto grazie a questo titolo il milan diventerà campione d'europa a madrid contro l'ajax nel 69 al bernabéu diventerà campione del mondo a san siro alla bombonera contro le studiantes nella doppia sfida contro gli argentini nel 69 70 dunque milan campione d'italia 67 68 abbiamo vissuto fino alla fine il gol di rivera che avete appena visto è stato segnato all'ottantottesimo due minuti dalla fine il risultato fino a quel momento era 0 a 0